Musica Padula campagna di screening di controllo, la minoranza attacca l'amministrazione, arriva alla replica del sindaco imparato. Polla, screening su soggetti a rischio contagio, le polemiche sull'effettuazione dei tamponi, interviene il consigliere comunale Graziano Bocca. Covid-19, bonus di 600 euro per le persone con disabilità, l'avviso dell'ambito territoriale S10. Sassano, buongiorno ai nostri nonni, la colazione a casa per gli over 65, l'iniziativa del comune. Sala Consilina riparte il progetto economico solidale Tecchete-Dame. Ben trovati, eccoci al nostro telegiornale. La campagna di screening per l'effettuazione dei tamponi di controllo effettuata a Padula lo scorso 24 aprile è stato motivo di polemica. Tra maggioranza e opposizione all'indomani dell'effettuazione dei test, la minoranza attaccato su più fronti, l'amministrazione imparato e arrivata alla replica del sindaco. Campagna di screening preventivi a Padula per la verifica di eventuali casi di contagio tra le persone maggiormente esposte a rischio. Una campagna che è stata poi travolta dalle polemiche con accuse arrivate dalla minoranza consigliare che con una nota aveva accusato l'amministrazione comunale di propaganda politica e scarsa trasparenza a cui si sono aggiunte anche accuse di creazione di assembramenti. Inoltre dall'opposizione ci si chiedeva anche in base a quale criterio l'amministrazione comunale avesse scelto i soggetti da sottoporre a tampone e perché tra i primi ad effettuare i test c'erano i dipendenti comunali e gli amministratori e non gli operatori del settore sanitario di altre categorie maggiormente esposte. Sotto accusa poi anche la sede in cui sono stati effettuati i test con la scelta di Piazza Umberto I che non è stata ritenuta idonea dall'opposizione perché non tutelava l'incolumità di chi era costretto a recarsi presso gli esercizi ubicati in loco come ad esempio farmacia o ufficio postale. La replica non si fa attendere. Lo scorso 28 aprile tramite il social network Facebook il sindaco Paolo Imparato annunciando l'esito dei tamponi effettuati venerdì 24 aprile in piazza a tutti i risultati negativi attacca la minoranza consigliare. Nel sottolineare come le operazioni si sono svolte nel rispetto del protocollo di sicurezza e avvalendosi del supporto di volontari e forze dell'ordine che hanno vigilato sul rispetto delle norme ricorda anche come in fila per effettuare il test fosse presente anche il consigliere di opposizione Giovanni Alliegro. A tal proposito il sindaco chiede per quale ragione non è intervenuto sul posto denunciando alle forze dell'ordine presenti i casi di assembramento se effettivamente ne aveva individuati. Nel suo intervento Imparato rivendicando la primogenitura dell'iniziativa evidenzia come si tratti di un modello di progetto da adottare in tutti i comuni campani come del resto è stato già fatto dato che nella stessa giornata di martedì 28 nel comune di Polla venivano effettuati circa 400 test su soggetti esposti al rischio. Nel finale ricorda come la decisione di effettuare i test anche ai parroci e agli amministratori comunali di Padula sia stata dettata dalla necessità in quanto molti di essi sono in prima linea e a costante contatto con altre persone sia per la loro attività lavorativa che per il loro impegno amministrativo. E andiamo a Polla dove martedì scorso c'è stata la prima giornata di screening sui soggetti maggiormente a rischio contagio nella tarda mattinata però pare che qualcuno pur contattato dal comune per effettuare il prelievo tramite tampone non è riuscito ad eseguire il test perché erano terminati i kit. Da qui è nata la polemica su cui è intervenuto il consigliere Graziano Bocca. Adesso ci sono molte voci in giro. Se devo dire che io so che se qualcuno ha chiamato a dei parenti, a delle persone per andare a fare il tampone secondo me io devo aspettare che si facciano le indagini perché a quel punto, a quel punto se ci sono state questi disguidi bisogna che si denunci a queste persone che hanno fatto telefonate che non dovevano fare perché c'erano dei paletti, anche se io ho visto la domanda che ha mandato la regione Campania ed è una domanda dove non ti chiede assolutamente cos'è il tuo lavoro. Per cui già c'è un disguido nella domanda della regione Campania però è chiaro che c'è una circolare dove c'erano delle categorie che dovevano essere presenti là. Però a dire che le persone sono state anche scostumate mi sembra un poco eccessivo perché se io guardo solo la domanda e non guardo i criteri perché non tutti possono usare il computer, non tutti hanno potuto vedere la circolare perché la circolare a casa non è arrivata alla casa dei cittadini. Allora se fossero arrivate anche mille persone là sopra che non avessero visto i criteri e delle persone che potevano usufruire del tampone, io penso che se arrivavano mille persone secondo me non erano state delle persone scostumate, doveva essere organizzato anche diversamente, doveva essere anche pubblicizzato quali erano i criteri, ma perché solo dalla domanda si poteva anche confondere delle cose. In un momento di pandemia come questa, quando si parla di tampone, la gente ha paura, la gente ha paura. È chiaro che se a Polla, se a Saraconsilina, se in tutti i paesi del Vado di Gia, c'è la possibilità di fare un tampone, le persone si sono regate. Allora dì, adesso innanzitutto bisogna che facciano un appello scritto a queste persone che sono rimaste pure e non far andare altre persone. Il fatto che ci sia un'altra giornata dei tamponi, probabilmente se le persone non lo sanno, che devono andare quelle persone che non lo hanno fatto, è chiaro che devono essere fatte una richiesta scritta oppure una telefonata, ma una telefonata alle persone che dovevano fare. Per quanto riguarda quello che è successo quel giorno, io invito ad indagare fino in fondo perché si sappia veramente se c'è stato un disguido da parte di qualcuno oppure ci sono state veramente queste presunte telefonate che io, per l'amor di Dio, in questo momento non ci voglio nemmeno credere. Però io devo dire che sono stati accusati anche i componenti sanitari e questa è la cosa che più mi è toccato da vicino, perché non è possibile trovare capi e spiettori perché il gruppo sanitario non poteva sapere se quelle persone che sono andate erano idonee a fare il tampone perché loro sono bardati e non hanno la possibilità e non conoscono nemmeno le persone che ci sono legate. Per cui la parte sanitaria non devono proprio toccarla. Questa è la cosa che più mi preme, perché se siamo eroi, siamo eroi e se non siamo eroi allora non ce lo devono dire. Questa è l'unica cosa che mi preme perché sono stati toccati i miei colleghi che sono stati là sopra e che hanno detto che loro non hanno controllato. Questo non è vero. Ed è stato pubblicato a stanza l'avviso per iscriversi ai tamponi di controllo per le categorie a rischio. Il sindaco Vittorio Esposito annuncia la giornata di controlli grazie all'ausilio dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. Il test sarà effettuato, dice, su categorie ben individuate e seguendo un ordine di rischio. I primi ad effettuare i test saranno gli iscritti nella lista che operano nel settore medico-sanitario. A seguire il prelievo sarà effettuato sul personale di pubblica utilità. Quindi associazioni di volontariato, operatori ecologici del trasporto pubblico, operatori per la vendita e la distribuzione di beni di prima necessità, altre aziende di istituti bancari, uffici postali, oltre agli operatori del settore nella distribuzione dei carburanti. I test saranno effettuati martedì 5 maggio a partire dalle ore 9. Sarà effettuata con la modalità drive-in, ossia i soggetti non potranno essere sottoposti al test, non dovranno scendere dall'auto. L'amministrazione comunale invita esclusivamente gli operatori e il personale rientrante nelle categorie elencate a compilare la scheda di richiesta per l'inserimento nella lista, che è scaricabile dal sito del comune oppure reperibile e ritirabile presso gli uffici della Polizia Municipale. Saranno gli organi sanitari, dice Esposito, a valutare l'esecuzione dei tamponi. Andiamo avanti. In arrivo un bonus di 600 euro per le persone con disabilità residenti nei comuni dell'ambito territoriale S10. La misura rientra tra quelle promosse dalla Regione Campania per il sostegno contro l'emergenza Covid. Sostegno dalla Regione Campania anche alle persone con disabilità nell'ambito degli aiuti per l'emergenza Covid-19. La Giunta regionale ha infatti ripartito agli ambiti territoriali le risorse destinate al finanziamento di un bonus di 600 euro in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità anche autistica in età scolare, che al momento sono privi di assistenza a causa dell'emergenza epidemiologica. All'ambito territoriale S10, con ente capofile il comune di Sala Consilina, sono stati assegnati circa 260 mila euro. Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni ha dunque pubblicato l'avviso per l'assegnazione del bonus da 600 euro alle persone con disabilità residenti nei comuni associati dell'ambito S10. Possono accedere all'avviso anche minorenni con disabilità anche autistica certificata da struttura pubblica, persone con disabilità che vivono sole o sono prive di sostegno familiare, sociale e relazionale e coloro che non beneficiano di servizi sociali, sanitari e sociosanitari nazionali o dell'ambito S10 rimasti attivi nonostante l'emergenza Covid-19. Gli interessati possono presentare domanda su apposito modulo con allegata la certificazione ESEE inviandola all'indirizzo info-pianosociale S10.it entro il prossimo 14 maggio. Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti con disabilità, la domanda dovrà essere presentata per ciascuna persona. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso lo sportello sociale del comune di residenza oppure al numero verde 817 0021. Si è insediato ufficialmente ieri l'osservatorio di controllo sulla speculazione sui prezzi in campagna. Vediamo. Monitorare e contrastare ogni fenomeno di distorsione del mercato generato dall'imposizione di prezzi sproporzionati a seguito degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. È il compito dell'osservatorio regionale prezzi istituito dall'amministrazione regionale della Campania insediato si ieri. L'osservatorio è preseduto dall'assessore alle attività produttive ed è costituito dai rappresentanti delle prefetture, della Guardia di Finanza, dell'Anci Campania, di Union Camere Campania e delle associazioni dei consumatori. Un organismo che raccoglie le segnalazioni pervenute dal territorio con l'obiettivo di monitorare i fenomeni speculativi ed orientare il programma delle attività di controllo da parte degli organi competenti. A tal fine è stata attivata un'apposita casella di posta elettronica alla quale potranno essere inviate le segnalazioni. Si lavorerà a tutela dei cittadini consumatori. La Guardia di Finanza attiverà i controlli avvalendosi delle proprie unità operative sulle segnalazioni pervenute per il tramite dell'osservatorio e del numero di pubblica utilità 117. Il presidente della Lega Consumatori, Salerno Vallodidiano, Mirko Resciniti, sottolinea l'importanza del neo nato osservatorio regionale pre dei prezzi. Siamo al fianco della regione che con l'istituzione dell'osservatorio ha potenziato significativamente i rapporti di collaborazione istituzionale ed è questa la strada giusta per svolgere un'attività di contrasto efficace, afferma Resciniti. L'Associazione dei consumatori offre ad ogni cittadino consumatore la possibilità di collaborare per individuare e segnalare alle autorità i casi più gravi di rincari ingiustificati e portarli all'attenzione delle istituzioni. Di tutto quanto ci verrà segnalato, conclude, informeremo costantemente l'osservatorio, coinvolgendo in primis le istituzioni e le autorità preposte perché si attivino nei controlli e verifichino in particolare gli aspetti penalmente rilevanti. Cambiamo argomento. Il Comune di Sassano, nelle giornate del 2 e del 3 maggio, in occasione della fine della fase 1 invierà la colazione a domicilio a tutti i sassanesi over 65 con l'iniziativa Buongiorno ai nostri nonni. Sassano riparte l'hashtag con cui il sindaco Tommaso Pellegrino ha annunciato l'iniziativa Buongiorno ai nostri nonni. Riconoscenza e partecipazione in vista della fase 2 da parte del Comune di Sassano che con l'idea si propone di sollecitare la ripresa della normalità coniugando due delle risorse fondamentali della vita di un paese, soprattutto se si tratta di una piccola realtà. Gli anziani, un patrimonio prezioso di conoscenze ed esperienza e le attività dei bar intorno alle quali si costruiscono e si mantengono le relazioni sociali e prima ancora ruota buona parte dell'economia del territorio. Il Comune, nelle giornate del 2 e 3 maggio, in occasione della fine della fase 1, invierà la colazione a domicilio a tutti i sassanesi over 65. Sono circa 1200 le persone destinatari dell'iniziativa che coinvolge tutti i bar di Sassano, i quali cureranno la consegna a domicilio. Ognuno coprirà la zona in cui insiste la sua attività. Tale iniziativa, spiega il primo cittadino, vuole da una parte inviare un messaggio di fiducia e gratitudine alle fasce più deboli del paese. I nostri nonni, ai quali dobbiamo tanto, e nello stesso tempo vuole dare un aiuto concreto in una fase di ripartenza ad un settore economico, quale quello dei bar, certamente tra i più colpiti in questa emergenza Covid-19. Sabato e domenica, allora, tutti i nonni di Sassano riceveranno a casa caffè e cornetto un omaggio da parte del Comune. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio, andiamo a Sala Consilina. L'Associazione Culturale La Rosa di Gerico ripropone il progetto economico solidale Tecchete Damme. Vediamo di chi si tratta. Sta per ripartire da Sala Consilina il progetto economico solidale Tecchete Damme per rilanciare il commercio locale dopo il coronavirus. L'idea è nata nell'aprile del 2017 dall'Associazione Culturale La Rosa di Gerico. I due promotori, Stefano Darco e Antonio Santarsiere, la ripropongono con le stesse modalità e finalità calibrata sulla situazione attuale. Tutto parte dal concetto di economia socio-sostenibile impostata sulla fiducia. L'obiettivo dell'iniziativa è sempre stato collegato alla rinascita del centro città e alla ripresa del comparto commerciale. L'Associazione, spiegano i promotori, chiede a chi se lo può permettere di acquistare dei tagliandi che potrà riscuotere successivamente nei negozi aderenti, i quali nel frattempo sono aiutati a riprendersi dalla crisi causata dall'emergenza proprio con i soldi raccolti grazie all'iniziativa. Ciò che ci preme è far sapere che sul territorio esiste un progetto di aiuto, una mano per chi è in difficoltà. Chiunque può entrare a farne parte sia come sostenitore che come fruitore del progetto. Aderendo al Tecchete Damme si acquista un troppo buono, un tagliando dal nome evocativo. E questo è il modo in cui da queste parti si ringrazia e si fa una spesa di prodotti nei negozi aderenti da ritirare non al momento ma quando l'attività è ben avviata o ripresa. Tutto si basa sulla fiducia e sul buonsenso sociale. Si tratta di un progetto di economia socio-sostenibile che sin dall'inizio si è presentato come caratterizzato da follie e passione. È una richiesta di aiuto alla società per tutti quegli imprenditori intraprendenti che vogliono avviare o riavviare una propria attività in luoghi a difficoltà commerciale, imprenditoriale o dopo situazioni critiche come quella legata all'emergenza in corso. I principi caratteristici dell'economia solidale ci sono tutti la cooperazione, lo scambio reciproco ma anche la partecipazione attiva alla valorizzazione del territorio attraverso i suoi prodotti migliori. La misura 13 del PSR Campania subisce una drastica riduzione dei fondi da destinare agli agricoltori. Delle tre sottomisure che riconoscevano fondi di sostegno alle attività agricole in zone speciali solo una è stata confermata ma comunque con una forte riduzione della dotazione finanziaria. A lanciare l'allarme e a chiedere un immediato intervento della regione è il consigliere provinciale Giuseppe Ruberto. Niente fondi dalla regione Campania per gli agricoltori che operano nelle zone soggette a vincolo. La misura 13 del programma di sviluppo rurale della regione Campania subisce un drastico ridimensionamento delle risorse cancellando due sottomisure fino all'anno scorso attive, ossia la 13.2 e la 13.3 confermando solo la sottomisura 13.1. A lanciare l'allarme evidenziando come tale decisione potrebbe rivelarsi deleteria per molte aziende agricole è il consigliere provinciale Giuseppe Ruberto che invita la regione Campania ad intervenire in maniera risolutiva prima che sia troppo tardi con la chiusura di numerose aziende operanti nel comparto agricolo e zootecnico. Fino allo scorso anno con la misura 13 del PSR Campania si puntava a sostenere le spese degli operatori agricoli per la salvaguardia del suolo. Suddivise e sottomisure si occupava di offrire ulteriore sostegno per le aziende che operavano in determinati contesti paesaggistici e che pertanto richiedevano un aggravio di spese per l'espletamento dell'attività. 13.1 a sostegno delle attività agricole nelle zone montane, 13.2 per le attività agricole in zone soggette a vincoli naturali e la 13.3 per le attività in zone soggette a vincoli specifici. I bandi prevedevano il riconoscimento di contributi per compensare le maggiori spese sostenute rispetto ad aziende ubicate in zone senza vincoli. Per il 2020 sono state escluse dai contributi le misure 13.2 e 13.3 legate ad attività in aree costrette a rispettare vincoli ed obblighi stringenti. L'unica misura che potrà godere dell'indennità di sostegno è la 13.1 per le zone montane, ma con una drastica quanto drammatica riduzione delle risorse che il consigliere provinciale Ruberto calcola nel 75% circa. È stato inflitto un duro colpo agli agricoltori, dichiara, che grazie al loro incessante e prezioso lavoro permettono il mantenimento dell'attività agricola in aree svantaggiate, spesso caratterizzate da un'elevata fragilità del territorio in termini idrogeologici, con un'azione di prevenzione fondamentale per evitare la perdita di suolo e per la difesa degli ecosistemi. Con queste esclusioni e pesanti riduzioni, conclude Ruberto, viene meno il sostegno alla stabilità delle comunità rudali e alla promozione di azioni di sviluppo. Sono partiti in questi giorni a Piaggine i lavori per la banda ultralarga, termineranno in estate per il sindaco Guglielmo Vairo, un ottimo punto da cui ripartire. Sostegno dalla Regione Campania anche alle persone con disabilità nell'ambito degli aiuti per l'emergenza Covid-19. La Giunta regionale ha infatti ripartito agli ambiti territoriali le risorse destinate al finanziamento di un bonus di 600 euro in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità anche autistica in età scolare, che al momento sono privi di assistenza a causa dell'emergenza epidemiologica. All'ambito territoriale S10, con ente capofile il comune di Sala Consilina, sono stati assegnati circa 260.000 euro. Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni ha dunque pubblicato l'avviso per l'assegnazione del bonus da 600 euro alle persone con disabilità residenti nei comuni associati dell'ambito S10. Possono accedere all'avviso anche minorenni con disabilità anche autistica certificata da struttura pubblica, persone con disabilità che vivono sole o sono prive di sostegno familiare, sociale e relazionale e coloro che non beneficiano di servizi sociali, sanitari e sociosanitari nazionali o dell'ambito S10 rimasti attivi nonostante l'emergenza Covid-19. Gli interessati possono presentare domanda su apposito modulo con allegata la certificazione ESEE, inviandola all'indirizzo info-pianosociale-s10.it entro il prossimo 14 maggio. Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti con disabilità, la domanda dovrà essere presentata per ciascuna persona. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso lo sportello sociale del Comune di Residenza oppure al numero verde 817 0021. Era questo il nostro ultimo servizio, termina qui il nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per la visione!